Dio è sempre fedele verso di noi, ha mostrato il suo grande amore verso di noi, questo è il nostro compito di seguire queste orme che Dio ci ha dato, le orme di Dio. Tutte le mure costruite devono essere smantellate con l'amore di Dio. Siamo tutti uno in Cristo. Lo stesso padre e siamo fratelli e sorelle. Non c'è divisione in paradiso e sono contento per questa occasione di preghiera. Che Gesù Cristo ci unisce sempre insieme. Si ricostruisce tutte le mure che sono spezzate, si sono smantellate e diventiamo uno in Cristo. E penso a un contribuzione. La pace del Signore sia con tutti voi. Scusatemi, non è facile fare.